possiamo iniziare la lezione odierna. Allora, prima di iniziare la parte più specifica, quello che vorrei fare è provare a richiamare quello che è il questionario che avevo sottoposto già prima dell'inizio del corso sulle vostre conoscenze del linguaggio C. Quindi vi richiamo il questionario e vorrei vedere con voi assieme le domande. Allora, come regola, ne avevamo discusso nelle ultime lezioni, direi che se avete delle domande molto specifiche e veloci potete scrivere in chat. Se avete delle domande un po' più elaborate dovreste avere la possibilità del pulsante di alzata di mano. Quindi io lo vedo, a questo punto, potete prendere, vi do la parola, voi potete fare la domanda anche direttamente col microfono, anche perché scrivere a volte potrebbe essere un po' lungo. In generale, se ci sono domande o altro, fermatemi e io cerco di rispondere a tutto. Dopo aver visto questa parte relativa alle vostre conoscenze di C, quindi diciamo una specie di riepilogo. Vi lascerò tempo per eventuali domande sulle ultime lezioni che vi ho pubblicato, dopo aver fatto un sintetico riepilogo cercando di enfatizzare quelli che sono gli aspetti principali. Allora, vostre conoscenze di C, spero che abbiate fatto il questionario online come vostro esercizio. Vediamo assieme ora quelle che sono le risposte corrette e che è anche un modo di andare a ripassare un po' il linguaggio C. Allora, in questo caso quello che noi andiamo a vedere è un frammento di codice che inizializza la variabile A, poi c'è un ciclo in cui sostanzialmente facciamo A più uguale all'array di I e poi return A di array.length. Che cosa fa questo codice? Beh, sostanzialmente inizializza a zero la variabile, somma tutti gli elementi e poi li divide per il numero stesso di elementi. Quindi è abbastanza ovvio che questo restituisca la media degli elementi. Osservazioni? Ok, spero che questo sia chiaro e facile per tutti. Seconda domanda che era presente nel questionario. Dato un frammento di codice in cui abbiamo A uguale a 1, B uguale a 2, la chiamata della funzione F passando A e poi la stampa di A e B, data la funzione F scritta come segue, qual è il risultato della stampa di A e B? Ora, se noi ci ricordiamo come funzionano le variabili locali, è ovvio che B è una variabile locale alla funzione F, quindi è completamente scollegata alla variabile B della chiamata. A è un parametro, ma ricordiamoci che sostanzialmente i parametri in C sono tutti passati per valore, quindi sostanzialmente la funzione F riceverà una copia della variabile A, la può modificare tranquillamente, però sostanzialmente questo non va a influenzare in alcun modo la variabile A che sta al livello più alto, e quindi sostanzialmente i due valori non vengono minimamente toccati. Piccolo inciso, anche in Java il passaggio di parametri avviene per valore, quindi se noi passiamo qualunque tipo di valore a una funzione, a un metodo Java, sostanzialmente il metodo vede una copia di quel valore, quindi lo può modificare senza andare a influenzare in alcun modo invece la variabile principale. Sono, tra virgolette, passati per valore anche i riferimenti, quindi quando io copio un riferimento sostanzialmente creo una copia del riferimento, quindi un nuovo riferimento che punta allo stesso oggetto. quindi cambiare il riferimento, cioè assegnarlo a un altro oggetto, non ha effetto a livello superiore, però qualunque operazione che io faccio all'interno di una funzione su un oggetto, questo poi si può rivedere anche a livello superiore, perché sostanzialmente l'oggetto a cui facciamo riferimento è lo stesso. Incremento, allora abbiamo la variabile i che viene inizializzata a 2, la domanda è quale di queste istruzioni non porta il valore di i uguale a 3. Allora i++ e i++i sono sostanzialmente identiche, scritte così il fatto che sia un post o un pre-incremento non cambia, perché dopo questa esecuzione, dopo questa istruzione, sostanzialmente i viene incrementato. i più uguale a 1 sostanzialmente equivale all'incremento, i uguale a 3 assegna e i più uguale a 3 somma sostanzialmente 3. Quindi ovviamente l'unico che non porta il valore a 3, ma lo porta sostanzialmente a 5, quindi 3 più 2, è l'ultimo. Tutte queste operazioni di incremento sono esattamente identiche in Java. Ciclo su un array che ha sostanzialmente il compito di andare a invertire l'ordine degli elementi. Quindi cosa devo mettere al posto di questi puntini dopo che ho messo nella variabile temporanea temp, il valore di i? Allora, domanda sul primo. La risposta è calcola la media comunque, non se l'array di tipo int, la media della prima domanda è comunque calcola la media. Se sono valori double, il risultato è esattamente il valore della media. Quindi non è solo in quel caso, ma è in generale per qualunque tipo di variabile. Torniamo alla nostra domanda sul loop. A questo punto quello che noi dobbiamo andare a fare è capire cosa dobbiamo mettere dentro questa variabile, scusate, al posto di questi puntini per poter fare l'inversione dei valori. Quindi quello che dobbiamo mettere è sostanzialmente un qualcosa che permetta di prendere il primo elemento, metterlo al posto dell'ultimo e via di questo passo. Attenzione con le lunghezze, perché dobbiamo andare a prendere, andare a considerare che gli indici partono da zero, quindi l'ultimo elemento è l'elemento che ha lunghezza dell'array, meno uno. È facile rispondere a questa domanda se andiamo a concentrarci su quello che è il nostro primo elemento, che è l'elemento con indice i uguale a zero. Se andiamo a prendere il primo elemento, zero, noi lo dobbiamo scambiare con quello che ha posizione lunghezza di v, meno uno. Quindi se sostituiamo a i il valore di zero, l'unica di queste alternative che sostanzialmente va a pescare l'ultimo elemento è la prima. Qui invece abbiamo a che fare con la precisione, ovvero che cosa è in grado di rappresentare una variabile. A uguale a 10, B uguale a 5, C uguale a B su A per 3. In un caso normale, se noi avessimo a che fare con delle variabili, con una precisione a piacere, il risultato ovviamente sarebbe 5 decimi, ovvero 0,5 per 3, che fa 1,5. Purtroppo qui le variabili A, B e C sono variabili di tipo intero, per cui nel momento in cui andiamo a fare B su A, il risultato è 0. Per cui B su A fa 0, 0 per 3 fa 0. Ricordatevi, quando fate delle operazioni con gli interi, che ci sono dei limiti di rappresentazione, quindi i valori compresi tra 0 e 1 vengono tutti rappresentati sostanzialmente come un 0, e quindi vi perdete molta precisione. Quindi ogni volta che voi dovete andare a fare delle operazioni in cui ci sono delle divisioni che sono coinvolte, tenete presente che è necessario andare a utilizzare piuttosto di valori floating point. passaggio di parametri per riferimento. Non abbiamo un analogo in Java, o meno non direttamente. qui abbiamo la funzione che si chiama incremento, che riceve un puntatore, un intero, P, e che cosa fa? Sostanzialmente somma a ciò che è puntato da P, 1, quindi incrementa la variabile che è puntata da P. Come facciamo a effettivamente far incrementare la variabile I? Sostanzialmente dobbiamo passare alla nostra funzione, incrementa il puntatore alla variabile I, che è sostanzialmente questo. quindi indirizzo di I. I ovviamente non funziona perché il C interpreterebbe questo I, il valore che sta dentro la variabile I prima dell'incremento, come l'indirizzo in memoria. Quindi ci darebbe un accesso alla memoria casuale. Asterisco di I sostanzialmente interpreta il valore di I come puntatore, va a prendere la memoria puntata da quell'indirizzo e lo passa come indirizzo di variabile, quindi accesso casuale a memoria al quadrato. Qui, dove abbiamo le somme, ovviamente non hanno minimamente senso. Ok, quindi questo era giusto per ricordarvi alcuni aspetti fondamentali del linguaggio C. se avete dubbi il libro di riferimento è questo o uno qualunque di quelli che avete utilizzato durante il primo corso di informatica. domande o curiosità? Ok, se non ci sono domande, ne approfitto per fare un piccolo approfondimento relativo al passaggio di parametri per valore e per riferimento in Java. Quindi vi condivido Eclipse. Allora, vi ricordate che avevamo la nostra classe CAR? Faccio che ingrandirla così la vediamo per bene. La nostra classe CAR con gli attributi, il costruttore e un metodo Paint. Uno degli aspetti che abbiamo visto nell'ultima lezione è che normalmente è bene andare a sfruttare i meccanismi di visibilità per rendere degli oggetti di questa classe, ma di qualunque classe, degli oggetti che nascondano le informazioni, che rispondono a quello che è il principio di incapsulamento. Per cui, se noi andiamo a prendere il nostro programma, vi ricordate che avevamo scritto un po' di operazioni, a questo punto vediamo come funziona la visibilità e l'incapsulamento. Dato un oggetto C, che è il nostro CAR che abbiamo creato qua su in cima, noi possiamo scrivere C, punto, e vedete che, scusate l'errore, se lo facciamo C, punto, sostanzialmente Eclipse ci propone tutta una serie di alternative che sono tutti i membri dell'oggetto C che noi siamo in grado di vedere da questa classe programma, in particolare dal suo metodo main. vedete che noi abbiamo possibilità di andare a leggere la variabile acceso booleano, la variabile colore stringa, la variabile marca. Per cui, potenzialmente, noi che potremmo andare a dire C, punto, colore è uguale a nero. Ovviamente questo vuol dire che chiunque abbia accesso a un riferimento di tipo CAR, come è per l'appunto C nel nostro esempio, può andare a modificare ad libitum, quindi come vuole, il valore di tutti gli attributi. Questo in generale non è una buona norma, perché non sappiamo se abbiamo, ad esempio, un malfunzionamento, dove sta la causa, quindi chi ha modificato un valore che non è corretto. Da cui, ad esempio, invece di scrivere colore un'area nero, potrei il colore uguale a PIPO. E questo è perfettamente valido. Il linguaggio Java non mi dice nulla. Per questo motivo normalmente quello che si fa è di andare a mettere la visibilità di tutti gli attributi a privato. Una volta che abbiamo messo gli attributi come valore privato, vedete che immediatamente qui abbiamo un errore. L'errore ci dice il campo car.colore non è visibile. Quindi che cosa facciamo? Beh, andiamo di qua e andiamo a creare un metodo setter per il colore che in realtà abbiamo già a disposizione il metodo paint. Quindi per andare a impostare il colore utilizziamo il metodo paint. Quindi invece di fare questo andiamo a dire c.paint PIPO. A questo punto voi direte in realtà non cambia assolutamente nulla. Beh, non è vero perché in realtà dentro il nostro metodo paint potrei andare a fare dei controlli. per cui se new col punto equals bianco oppure new col equals nero oppure new col equals rosso eccetera 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 allora colore uguale a new col else stampo un messaggio d'errore colore errato quindi se vado a eseguire il mio programma commento momentaneamente tutto il codice che sta sopra per commentare un blocco di codice quello che posso fare in Eclipse è selezionare tutto il codice e poi andare a fare control oppure command se siete su Mac e il numero 7 dove c'è lo slash o comunque il tasto della vostra tastiera che ha lo slash di commento e quindi questo automaticamente commenta tutto a questo punto se io vado a eseguire questo codice quello che ottengo è lo vediamo qua su colore errato se invece di mettere Pippo metto nero che è uno dei colori che abbiamo visto essere validi quello che ottengo non mi fa vedere l'output e sostanzialmente nulla non mi fa vedere l'output perché normalmente l'output me lo mostra soltanto se c'è qualche cosa che viene stampato in questo caso non viene stampato nulla e va bene a questo punto però noi abbiamo la possibilità di scrivere il colore tramite questo metodo ma non abbiamo la possibilità di leggerlo domanda allora un paio di domande a cui rispondo prima di andare avanti nel metodo Paint qui si potrebbe scrivere anche è assolutamente vero equivale a this punto colore uguale new col colore da solo in questo caso non è ambiguo e ovviamente fa riferimento all'attributo dell'oggetto su cui stiamo eseguendo volendo esplicitare che si tratta dell'attributo dell'oggetto corrente possiamo scrivere this punto allora altra domanda un po' più complessa i letterali vengono comunque inizializzati come stringhe nel leap sì quindi nello stack rimangono esclusivamente i tipi primitivi del metodo e i riferimenti anche ok perfetto allora stavo dicendo paint ci permette di scrivere il valore ma non sappiamo non siamo in grado di leggerlo quindi volessimo andare a vedere il colore di un auto non riusciamo a farlo per questo motivo normalmente si utilizzano dei metodi che si chiamano getter si chiamano getter dal loro nome perché normalmente vengono definiti come public string perché string è il tipo del colore get colore aperta chiusa tonda e qui faccio un ritorno di colore in questo modo riesco ad accedere tranquillamente al colore per cui qui nel mio main posso fare system punto out punto print ln colore dell'auto più c punto get colore quindi che cosa fa questa operazione poi riprendiamo velocemente le stringhe che erano l'argomento dell'ultima lezione che vi ho pubblicato quindi sostanzialmente ho questa stringa che viene concatenata tramite l'operatore new l'operatore più scusate al risultato di questa chiamata a metodo il metodo get colore restituisce una stringa ok vi faccio vi faccio notare che ogni volta che voi andate col cursore del mouse su un particolare su un particolare metodo vedete le informazioni su quel metodo in questo caso vedete il tipo di ritorno il nome della classe punto il metodo eventualmente ci sono anche dei parametri quindi in generale i metodi getter e eventualmente i metodi setter allora abbiamo un metodo paint per andare a scrivere il colore ma potremmo mettere un metodo set per andare a scrivere ad esempio la marca quindi public void set marca string new marca e this.marca uguale new marca ok quindi questo è quello che si chiama un getter questo è quello che si chiama un setter getter dal prefisso get e setter ovviamente dal prefisso set oltre al fatto che in inglese getter è ciò o colui che ottiene e setter è ciò o colui che imposta o definisce mentre ci siamo vi ho accennato al fatto che noi vediamo le informazioni sui sui metodi se io vado ad esempio su questo metodo equals vedete che le informazioni che ottengo sono molto più articolate quindi ho una serie di dettagli su questo metodo perché perché sostanzialmente tutte le classi della libreria hanno una documentazione allegata a ogni metodo questa è un'operazione molto molto facile da fare per cui andiamo a prendere il metodo paint che è quello più sofisticato per andare ad assegnare una documentazione che poi sarà visibile a tutti a un metodo a me è sufficiente andare a mettere un commento che viene chiamato commento javadoc basta iniziare il commento con slash doppio asterisco e automaticamente mi viene generata la documentazione quindi qui eclipse sostanzialmente mi va a capo e mi mette una serie di linee vuote quindi io qui posso andare a dire metodo allora metodo che permette di impostare il colore dell'auto punto il metodo accetta solo colori validi ok poi c'è questa annotazione particolare addparam che sostanzialmente mi dice dai la descrizione del parametro che si chiama new color e qui il nuovo colore dell'auto a questo punto se io torno sul mio programma e vado alla chiamata paint quello che ottengo è la documentazione che abbiamo appena scritto allora domanda se paint è public come mai non riusciamo ad accedere al colore senza usare get non ho capito la domanda se il metodo paint che è questo qua è pubblico riusciamo ad accedere al colore perché ci troviamo all'interno della stessa classe quindi colore è sostanzialmente un attributo della stessa classe quindi privato significa che è privato rispetto alla classe quindi tutti i metodi della classe sono in grado di accedere agli attributi della classe della classe stessa che siano privati o no ciò che sta fuori dalla classe invece non è visibile perché per l'appunto è privato altra domanda in questo caso il metodo setter è sostanzialmente il metodo paint è un metodo setter beh sì sostanzialmente potremmo dire che è un metodo setter anche se per convenzione i metodi chiamati getter e setter sono quelli che iniziano con getter setter però sì la funzionalità è esattamente quella di un metodo setter quindi vediamo anche qua che una caratteristica importante dell'avere un metodo per andare a scrivere un valore invece di scriverlo direttamente nell'attributo è che posso fare tutte le operazioni di verifica o di conversione che vogliamo vi faccio un altro esempio ancora più articolato immaginate di voler rappresentare il colore non con una stringa come in questo caso ma come un intero e quindi di avere un meccanismo che vi permette di passare dalla stringa all'intero ecco io potrei tranquillamente avere la variabile interna di tipo intero e poi qui nel metodo paint passare dalla stringa all'intero e nel metodo getter fare il viceversa cioè nel get colore io prendo l'intero che è memorizzato nella variabile e lo converto nella stringa quindi oltre a evitare pasticci nel senso che non ho più un modulo coeso e consistente in cui so esattamente perché lo posso andare a leggere come vengono modificati gli attributi quindi mettere privato e avere metodi getter e setter permette di avere un buon incapsulamento e il buon incapsulamento sostanzialmente mi dà dei moduli indipendenti più facili da comprendere e da manutenere ho anche la possibilità di andare a fare delle operazioni più o meno complesse che mi permettono di sostanzialmente variare ottimizzare la rappresentazione interna dei dati senza dover in alcun modo impattare su quelli che invece sono sostanzialmente gli utenti i clienti della mia classe quindi dalla classe programma noi non riusciamo ad accedere all'attributo colore perché programma è una classe diversa dalla classe car ovviamente riusciamo ad accedere al nostro colore perché è un oggetto che sta dentro la stessa classe vi faccio vi faccio notare che quando facciamo this.mark uguale altra auto punto marca nel metodo uguale che avevamo scritto la volta scorsa qui io di fatto sto accedendo a un attributo di un altro oggetto quando si parla dell'incapsulamento uno potrebbe intuire ragionevolmente può anche avere senso che l'incapsulamento riguardi gli oggetti quindi un oggetto è proprietario dei propri dati e nessun altro può accedere in realtà nei linguaggi di programmazione ad oggetti l'incapsulamento viene realizzato a livello di classe quindi un oggetto della classe car è in grado di accedere agli attributi privati di qualunque altro oggetto della stessa classe ovviamente purché abbia un riferimento per accedere a attributi e metodi devo sempre passare da un riferimento questo perché uno perché è molto più semplice in termini di implementazione del compilatore il compilatore che vede questo metodo uguali come fa a sapere se il parametro passato o altra auto è un oggetto diverso oppure è lo stesso oggetto e quindi questa verifica non è in grado di farla se non a runtime la verifica che è in grado di fare durante la fase di compilazione è che il riferimento a altra auto sia della stessa classe da cui stiamo cercando di accedere e quindi questa verifica è fattibile facilmente a runtime scusate è in fase di compilazione a compile time e soprattutto mi permette di fare operazioni come queste in cui io vado ad accedere a degli oggetti per fare dei confronti immaginate di voler copiare qualcosa da un altro oggetto ecco di nuovo abbiamo la necessità di avere accesso agli attributi privati e questo funziona purché stiamo sempre all'interno della stessa classe quindi siano oggetti della stessa classe a questo punto piccolo richiamo veloce di quello che sono gli attributi privati e pubblici e a questo punto il punto da cui ero partito era farvi vedere come funziona il passaggio di parametri io qui posso andare a chiamare un metodo public static colora auto che riceve un'auto a e sostanzialmente void ho dimenticato il valore di ritorno mi dice a punto paint bianco chiamiamola invece colora di bianco così è più semplice a questo punto se io chiamo colora di bianco e passo l'auto c dopo questa chiamata il colore dell'auto sarà cambiato in bianco perché perché in questa chiamata sostanzialmente il riferimento c viene passato a questo metodo questo metodo usa questo riferimento per chiamare il metodo paint quindi sostanzialmente l'oggetto a cui fa riferimento è esattamente lo stesso a cui punta c quindi dentro quell'oggetto verrà cambiato il colore e alla fin fine c che comunque fa sempre accesso allo stesso oggetto vedrà quel colore cambiato per cui se io vado ad eseguire il mio codice vedete che alla fine il colore dell'auto diventa bianco quello che invece non posso fare perché sostanzialmente il riferimento viene copiato dentro è ad esempio qui dentro il metodo colora di bianco andare a dire che a è uguale a new car e poi andare a dire che a punto paint bianco perché? perché a questo punto car che ha tutti gli effetti a questo punto equivalente a una variabile locale non è c è una copia quindi inizialmente punta all'oggetto ma se io qui lo sovrascrivo sovrascrivo la variabile locale a e vado a colorare di bianco il nuovo oggetto che ho creato qui senza alterarlo da qui se io eseguo in questo caso il colore resta nero ok? quindi viene fatta una copia del riferimento cioè del puntatore smart come abbiamo anche chiamato qualche volta e qui quindi se io faccio un'operazione direttamente sul riferimento non attraverso il riferimento il risultato è che non vado a influenzare ciò che stava sopra domande? allora tutte le tutti gli oggetti che noi andiamo a creare sono passaggi by reference invece i valori i valori primitivi sono passati by value ok? quindi se io passo una variabile intera questo sostanzialmente viene copiato e quindi è un passaggio assolutamente per valore allora altra domanda il metodo colora di bianco non appartiene alla classe car quindi viola l'incapsulamento no non viola l'incapsulamento adesso vi tolgo questo perché non ha molto senso non viola l'incapsulamento perché comunque passa attraverso il metodo paint quindi non accede in alcun modo agli attributi interni quindi l'idea è che l'accesso agli attributi di una classe deve essere regolato tramite dei metodi getter e setter o anche altri metodi se vogliamo fare operazioni che siano più articolate del semplice andare a scrivere un valore quindi l'incapsulamento vuol dire non posso scegliere direttamente gli attributi ma devo passare attraverso dei metodi tipicamente getter e setter allora this.a qui non ha nessun senso perché ci troviamo in un main e quindi non c'è nessun oggetto allora domanda chiamare new su un parametro di un metodo lo trasformi in una variabile locale in realtà non lo trasforma è già una variabile locale questo però è vero anche in c normalmente tutti i parametri che voi avete di una funzione c o un metodo java sono in tutto e per tutto equivalenti a variabili locali l'unica differenza rispetto alle variabili locali è che sono stati inizializzati prima dell'inizio della funzione dalla chiamata con quelli che erano i parametri attuali quindi quella è una variabile locale che contiene una copia del riferimento all'oggetto a cui puntava c del main quindi allo stesso effetto usare colora di bianco senza parametri e chiamare c.colora bianco allora c.colora bianco non funziona perché qua attenzione ci troviamo nella classe programma quindi è una classe diversa se avessimo messo un metodo che si chiama colora bianco dentro car allora sì avrei dovuto chiamare direttamente il metodo colora di bianco sull'oggetto questa è una funzione che viene chiamata direttamente l'equivalente di una funzione che viene chiamata dal metodo main quindi questo è il main della classe programma che è diverso dalla classe car allora per fare una copia sostanzialmente quello che devo fare è andare a partire da un oggetto e copiare i suoi attributi il codice che è scritto nella chat non funziona nel senso che io non ho un elenco di attributi ma volendo scrivere un costruttore io potrei andare a scrivere un public car quindi nuovo costruttore che riceve come parametro car diciamo è l'origine da cui andare a copiare e posso andare a dire dis.colore uguale origine punto colore dis punto marca uguale origine punto marca e dis scusate dis.acceso uguale a origine punto acceso domanda non c'è un modo per andare a evitare di mettere tutti gli attributi presenti non esiste un modo semplice in realtà in java esiste una serie di funzionalità che vengono chiamate reflection che mi permette di andare a vedere quali sono gli attributi i metodi e tutte le loro caratteristiche però la scrittura di una copia fatta tramite la reflection è estremamente più più complicata la struttura di una classe è sostanzialmente una versione evoluta delle struct c esattamente come suggerito in chat in questo momento in questo caso giustamente potremmo non mettere this perché ci troviamo nella classe car e quindi this.colore sostanzialmente equivale a scrivere semplicemente colore uguale origine punto colore allora l'altra domanda è ma questa funzione questo metodo colore di bianco equivale a una funzione c beh allora scritto così messo dentro la classe programma di fatto è in tutto e per tutto equivalente a una funzione perché vedete che viene chiamato così senza appoggiarsi ad alcun oggetto questo perché è una classe è un metodo che è stato dichiarato come statico non nella prossima lezione ma in quella successiva parleremo dell'attributo static e quindi capirete un po' meglio il dettaglio quindi mettere static davanti a un metodo sostanzialmente lo trasforma in una specie di funzione perché non ha più bisogno di essere appoggiata a un oggetto ok quindi con questo abbiamo rivisto velocemente i concetti principali di quello che sono la visibilità a livello di classe e abbiamo fatto qualche esempio di come possiamo passare i parametri quindi tutti i riferimenti vengono sostanzialmente copiati quindi ho un riferimento all'oggetto ho una copia del riferimento all'oggetto che posso utilizzare l'idea è che comunque tutti gli oggetti puntano allo stesso cioè tutti i riferimenti continuano a puntare allo stesso oggetto quindi se modifico un oggetto dentro una funzione dall'esterno facendo riferimento allo stesso oggetto lo vedrò cambiato a questo punto vi richiamo velocemente un'altra parte dell'ultima lezione che riguarda invece i package riduco questa finestra dell'editor e vi faccio vedere qua come è fatta il nostro progetto allora vedete che ho src che è sostanzialmente il la cartella in cui vengo a mettere tutti i file sorgente ha al suo interno questo che viene chiamato default package vedete che ha un nome strano tra parentesi e se voi andate a vedere dentro la cartella src quindi sul file system non trovate nulla che si chiama default package trovate una cartella che si chiama src dentro una cartella che si chiama primo progetto default package è il nome che viene dato da java a quello che è un package senza nome in generale la raccomandazione in java è quello quando andiamo a scrivere delle classi è di metterle in un package che abbia un nome perché perché il nome delle classi è sostanzialmente un'abbreviazione il nome completo delle classi o quello che noi chiamiamo il fully qualified name in java è un nome che comprende il package in cui si trova punto il nome della classe questo ci permette ad esempio di andare a definire più classi con lo stesso nome in due package separati immaginate un programma molto grande è possibile che ci sia una classe elemento che viene utilizzata in tanti punti e magari significa cose diverse per cui quello che normalmente si fa prima di iniziare un programma è quello di andare a definire uno o più package che permettano di gestire le classi i package sono sostanzialmente in tutto e per tutto analoghi alle cartelle che sono utilizzate in C per andare a suddividere un programma complesso ma in più hanno un supporto a livello di linguaggio che cosa vuol dire? Allora io qui dentro la serie C posso andare a creare un nuovo package che nomi do ai package? Posso dare qualunque nome normalmente la convenzione vuole che se io lavoro in una certa organizzazione che ha un dominio internet di solito uso come nome del package il dominio internet al contrario per cui noi siamo al Politecnico di Torino avete ragione scusate noi siamo al Politecnico di Torino e quindi andiamo a definire come nome della della nostra del nostro package it punto Polito quindi questa è la finestra che viene aperta automaticamente dai clips per andare a definire un package adesso dovreste vedere il pop up vero? quindi it punto Polito punto programmazione oggetti 20-20 punto esempi punto base ok l'idea è che vado a definire una serie di componenti di questo nome del package che cosa succede? che a ogni punto vado a creare una sottocartella quindi io qui avrò una cartella che si chiama it una sottocartella che si chiama Polito una sottocartella che si chiama PO 20-20 una sottocartella che si chiama esempi e un'altra sottocartella che si chiama base e quindi a questo punto torno ai clips mi viene creato questo package di tipo Lito PO 20-20 esempi base questo nuovo blocco è un'unità che serve all'interno di un linguaggio complesso come Java per andare a definire dei sottogruppi vi dicevo che normalmente in Java questi blocchi che in C sono sostanzialmente le cartelle hanno un corrispondente in termini di linguaggio perché perché se io ad esempio prendo la classe car e la sposto dentro il package che abbiamo appena creato vedete che a questo punto la classe car si trova qui e se vado ad aprirla automaticamente Eclipse mi ha messo questa dichiarazione in cima Eclipse aggiusta tutto quello che noi facciamo quando andiamo a operare sul codice Java quindi scusate un attimo che mi è scomparsa chat eccomi qua a questo punto è stato dichiarato esplicitamente che la classe car fa parte del package it polito PO2020 esempi base come per le classi anche per i package c'è il concetto di visibilità quindi io posso andare a mettere una classe pubblica o privata e a questo punto significa che la classe car dichiarata qui come pubblica può essere vista anche all'esterno del package quindi mentre la classe ha i propri membri quindi attributi metodi e costruttori i membri di un package sono le classi stesse quindi dichiarare una classe car come pubblica sostanzialmente me la rende visibile anche all'esterno del package domanda nel singolo file si possono inserire più classi per mettere tutte dentro lo stesso package o è meglio allora in generale la convenzione Java è che io ho una classe per file in ogni caso una unica classe pubblica per file quello che posso fare e lo vedremo tra qualche lezione è andare a mettere dentro una classe delle altre classi quindi avere delle classi anidate un package in realtà non ha metodi un package contiene esclusivamente delle classi quindi l'unico elemento che può essere contenuto in un package sono delle classi a questo punto come facciamo utilizzare una classe che si trova in un altro package beh se torniamo al nostro programma vede che qui il codice è tutto corretto quindi utilizzo car senza problemi perché perché è stato aggiunto qua come prima istruzione un'istruzione di import quindi ogni volta che io devo accedere a una classe che si trova in un package diverso devo utilizzare una dichiarazione di import che vada a specificare il nome completo di quella classe vedete che il nome completo della classe è formato dal nome del package punto il nome della classe questo rende la classe car visibile e utilizzabile direttamente dentro il nostro il nostro programma quindi la visibilità sulla classe car è possibile perché car è dichiarata come pubblica in più vado a importarla perché si trova in una classe diversa se io mettessi car con una dichiarazione di private a questo punto la classe non sarebbe più visibile in realtà private su una classe non ha molto senso perché private su una classe significa che la classe è sostanzialmente visibile soltanto a se stessa per dire che una classe è visibile esclusivamente all'interno del package ma non al suo esterno normalmente andiamo a indicare quella che si chiama la visibilità di package che è quella che si attua quando noi non mettiamo nulla quindi se mettiamo public la classe è visibile anche all'esterno del package se mettiamo nulla quindi semplicemente la dichiarazione della classe allora quella classe è visibile soltanto all'interno del package in cui si trova quindi in questo modo car è visibile soltanto all'interno di questo package per cui questo import non funziona allora non esiste un pop-up per cambiare un package io sostanzialmente ho trascinato la classe che si trovava nel package di default dentro quest'altro package per creare un nuovo package invece vado a creare ad esempio su src ma in realtà funziona tranquillamente anche sul sulla classe complessiva io faccio un clic destro e poi vado a fare new e package questo mi apre il pop-up per andare a scrivere il nome del package domanda domanda posso far visualizzare la classe car è un determinato package è un altro no questa visibilità selettiva non è possibile quindi se dichiaro class con la visibilità di package come la vediamo qui car è visibile esclusivamente all'interno di quel package non ho come in altri linguaggi ad esempio in c++ il concetto di classi amiche o di package amiche che hanno una visibilità preferenziale quindi è o tutti i package oppure soltanto il package in cui mi trovo la scrittura private class sostanzialmente è un errore di sintassi perché sostanzialmente vuol dire che la classe car è visibile soltanto a se stessa a questo punto non posso neanche chiamare nessun metodo non posso fare nessuna istanziazione quindi private davanti a classe è un errore sintattico quindi non è permesso dal linguaggio su una classe posso semplicemente andare a mettere o public oppure nulla come in questo caso in realtà se io voglio utilizzare la classe car dall'esterno di solito la vado a dichiarare come public per cui normalmente il default quando andiamo a creare una classe è dichiararla come pubblica poi possiamo ragionare sul fatto che la classe non debba essere visibile a tutti ma soltanto magari a alcune altre classi dello stesso package e quindi ridurre la visibilità però normalmente in termini di visibilità quello che si fa è dichiarare tutte le classi pubbliche tutti gli attributi privati e tutti i metodi pubblici dopodiché si va a ritoccare la scrittura la scrittura private class può funzionare quindi è concessa se io ho una classe interna a un'altra classe per cui a quel punto privato significa che la classe è privata alla classe contenitore sì lo vedremo quando parleremo delle classi annidate l'import che è stato messo qua dentro programma non l'ho scritto io ma l'ha scritto automaticamente eclipse perché altrimenti qui dentro non avrei potuto fare riferimento a car in generale se io parto da zero immaginiamo di avere qui un'altra classe diciamo possiamo chiamarla auto oppure truck quindi ho un'altra classe truck avendola creata qui dentro eclipse mi dice che fa parte di questo package si chiama si chiama truck se io voglio utilizzare truck all'interno di programma scusate di programma non posso scrivere semplicemente lo scrivo in fondo così è un po' più ordinato rispetto al non posso scrivere truck t perché truck non è visibile quindi quando ho degli errori come vedete eclipse mi apre una serie di possibilità per andare a risolvere il problema la prima la prima possibilità che mi offre è import track quindi mi dice ti faccio io l'import per cui se io faccio un click su questa opzione automaticamente eclipse mi aggiunge questo import quindi in realtà normalmente quando noi andiamo a programmare possiamo scrivere tranquillamente il nome di una classe eclipse ci suggerisce di fare l'import perché altrimenti non lo potremmo vedere quindi quando io ho spostato la classe car da package default a questo nuovo package automaticamente eclipse mi ha aggiornato e mi ha inserito il primo import che vediamo qua altra domanda se in un metodo non si mette né private né public qual è il risultato perfetto questo era il mio prossimo punto nella prima la prima volta che abbiamo scritto questi metodi non avevamo messo né private né public io poi vi ho messo private perché è il modo standard di andare a definire un attributo se io non metto nulla quindi ad esempio vado qua su get colore e tolgo public vedete che la scrittura è valida quindi cosa significa significa che questo metodo ha una visibilità di package ovvero è una via di mezzo tra public e private private vuol dire che quel metodo è visibile soltanto all'interno della classe car in questo caso public vuol dire che quel metodo è accessibile a tutti chiunque abbia un riferimento ad un oggetto di questo tipo può chiamare quel metodo la visibilità di package che quindi ottengo non mettendo né public né private sostanzialmente mi dice che quel metodo è visibile soltanto alle altre classi dello stesso package quindi get colore è visibile ad esempio all'altra classe track che trovo nella stessa package ma non è più visibile ad esempio qua in programma quando chiamo get colore l'errore che mi viene dato il metodo non è visibile quindi quando io non metto nulla davanti un metodo significa che sto restringendo la sua visibilità alle altre classi che stanno nello stesso package qual è la ragione che sta dietro questa visibilità sostanzialmente è quella di andare a dare un livello intermedio in cui ho un insieme di classi che possono collaborare tra di loro chiamandosi dei metodi un po' particolari che invece non voglio rendere visibili all'esterno del package il motivo per cui io normalmente metto tutti i package pubblici io in realtà è lo standard di iniziare a mettere tutti i metodi pubblici e che altrimenti quei metodi non sono visibili all'esterno del package vado avanti con le domande allora allora se si usa il linguaggio per creare un package Eclipse crea la cartella automaticamente sì quando io ho creato questo package automaticamente Eclipse mi ha creato tutta la serie di di cartelle per andare a definire una classe che sta dentro il package e prima devo definire il package e poi dopodiché posso andare a mettere una classe dentro Allora domande è possibile all'interno del stesso programma arrestare o interrompere l'import di una classe no perché l'import sostanzialmente è una dichiarazione che sta all'inizio pensate un po' agli include che voi mettete in cima a una funzione a un scusate a un file c quelli danno la visibilità su una serie di altre funzioni che non sono definite nello stesso file e quindi una volta che l'ho definito quello è visibile ed è un qualcosa che funziona in fase di compilazione non in fase di esecuzione ovviamente è possibile che io abbia due classi che hanno lo stesso nome in due package diversi a questo punto come faccio a utilizzarle contemporaneamente allora la vostra risposta potrebbe essere potevi farti furbo prima e dare due nomi diversi il punto è che non sempre ho definito tutto io magari vado a utilizzare codici scritti da altri librerie scritte da altri quindi può capitare anche se non è una cosa estremamente frequente che abbia necessità all'interno di un frammento di codice di utilizzare due classi che hanno lo stesso nome che ovviamente stanno in due package distinti quindi come faccio posso andare a utilizzare il nome completo della classe allora voi avete visto che qui nel mio programma ho messo un import di car in realtà se io non metto questo import posso fare riferimento a car usando questo qua che è il suo nome completo quindi invece di scrivere tipo litro eccetera invece di scrivere semplicemente import e poi car posso scrivere direttamente qua il tipo litro più esempio punto base punto car per cui a questo punto questa è la classe car che si trova in questo package se io avessi un'altra car in un altro package non ci sono problemi posso anche andare a mescolare import di una classe più un nome completo per l'altra ovviamente questo è un modo un po' scomodo di utilizzare le classi per cui normalmente quello che si fa è di andare a utilizzare l'import direttamente altra domanda gli attributi privati non sono visibili da una classe all'interno di un'altra classe allora sulle classi annidate ci torniamo in realtà quando io ho una classe annidata quella è parte della classe esterna e quindi può vedere i suoi attributi privati però ci arriveremo poi con calma tra due o tre lezioni quando parleremo di classi annidate l'idea è che per ora immaginiamo un livello alto che sono i package e il livello subito sotto che sono le classi e abbiamo ovviamente due livelli di visibilità diversi per cui allora vi apro un attimo una delle slide che avevo preparato che erano nell'ultima lezione quella sostanzialmente riepilogativa quindi questo è sostanzialmente l'insieme delle regole di accesso che operano su classi e package in base a questi tre livelli privato package e pubblico allora domanda ci sono esercizi da fare allora per il momento no nel senso che in realtà queste conoscenze sono ancora molto limitate adesso finisco questo riepilogo poi vi faccio vedere come voi potete andare a recuperare il codice che vi ho scritto e poi eventualmente andare a fare qualche prova qualche piccola modifica direi che dalla settimana prossima iniziamo poi magari a fare qualche esercizio assieme che iniziamo nella parte di lezione in diretta e che poi vi lascio da completare dopo quindi avrete poi la possibilità di farlo probabilmente già mercoledì vi posso dare qualche esercizio semplice che poi potete svolgere in maniera più o meno autonoma chiedendo ovviamente commenti durante la settimana sul canale Slack e di cui poi vedremo assieme le soluzioni nella lezione successiva domanda in un package possono esistere due classi con lo stesso nome? no no perché a quel punto il nome non sarebbe più univoco allora a cosa serve non mettere gli attributi privati? beh perché se io ho più classi all'interno dello stesso package tendenzialmente voglio evitare che altre classi dello stesso package soprattutto se sono tante possono accedere direttamente agli attributi e quindi è un livello di protezione aggiuntivo rispetto a quello di package se non metto nulla tutte le altre classi dello stesso package possono accedere comunque agli attributi privati che dovrebbero essere privati che in realtà non lo sono se però gli attributi sono visibili possono essere utili ad altre classi dello stesso package allora non mettendo nulla quindi non mettendo né public né private le altre classi possono accedere tranquillamente però non è un incapsulamento perfetto ma è un rilassamento dell'incapsulamento dando l'accesso alle altre classi dello stesso package quindi riepilogando in questo schemino abbiamo a cosa possiamo accedere a membri privati a membri di package quindi con la visibilità di package in cui ovvero non metto né public né private a membri pubblici in in una una classe che ha visibilità di package e membri pubblici con in classi con visibilità pubblica quindi se io ho un membro privato lo vedo soltanto dalla stessa classe se ho un membro che ha visibilità di package lo vedo soltanto da classi che stanno nell'altro nello stesso package se io ho un membro pubblico ma una classe che ha visibilità di package e continuo a poterlo vedere soltanto dalle altre classi che stanno nello stesso package infine se io ho un membro pubblico in una classe pubblica a questo punto posso vederlo dalla stessa classe da altre classi nello stesso package e da classi che stanno in un altro package la visibilità protected è un livello di visibilità intermedio che ha a che fare con l'ereditarietà non abbiamo ancora parlato di ereditarietà quando parleremo di ereditarietà introdurremo quest'ulteriore livello e quindi la tabellina che vedete qui sostanzialmente si complicherà un altro po' quindi aggiungeremo un altro livello intermedio di visibilità però prima di parlare prima parliamo di ereditarietà in generale poi vedremo che cosa significa protected ok allora la domanda possono esistere package annidati allora la domanda la risposta breve è no la risposta lunga è in realtà i package sono annidati perché adesso vi apro un attimo il file system così vedete direttamente come sono fatte le cartelle no scusate non è lì allora via scusate stavo aprendo semplicemente una cartella la cartella del progetto eccolo qua ok dovreste vedere adesso come è fatto il progetto sostanzialmente ci sono due cartelle bin src sotto src trovate un'altra cartella che si chiama it e il file programma appunto java quindi quando noi mettiamo una classe direttamente nel package di default sostanzialmente viene messa direttamente dentro src e poi una cartella it che in realtà contiene una cartella polito che contiene una cartella po2020 esempi base e car e track se io torno a questo punto in eclipse posso andare a creare ad esempio un nuovo package che chiamo it polito po2020 punto esempi senza base usate esempi vado ancora sotto base e sotto allora vedete che ve le riduco così quindi abbiamo i tip polito po2020 esempi base e sotto quindi questo è un package che sostanzialmente sta all'interno dell'altro in termini di cartelle in realtà il fatto che quello sia diciamo così apparentemente un sotto package in termini di visibilità non ha alcun effetto per cui i due nomi seppure facendo riferimento a cartella sotto cartella in realtà non hanno nessun legame in termini di visibilità quindi le classi che stanno in questo package sotto non vengono viste dalle classi che stanno nel package sopra quindi normalmente ci si organizza in package sotto package ma il linguaggio non prevede alcuna visibilità che segua questo livello di annidamento quindi le cartelle sono annidate ma i package sono sostanzialmente indipendenti altra domanda se ho due classi omonime in package diversi e nella classe programma le importo entrambe come si comporta? non posso importarle entrambe allora qui vi ho creato un nuovo package qua dentro vado a mettere una nuova classe che chiamo car esattamente quell'altra quindi la nuova classe car si trova in questo package qui se io provo a fare un import dentro programma di import punto car quello che ottengo è un errore che mi dice attenzione c'è un doppio import a questo punto come facciamo se io voglio utilizzare quest'altra questa non la posso importare ma devo andare a utilizzarla direttamente così quindi col nome completo perché ovviamente altrimenti avrei il nome car ambiguo ok quindi se ho due classi con lo stesso nome una la posso importare e l'altra la posso utilizzare col nome completo per carità potrei anche utilizzare tutti e due col nome completo però capite che iniziano a venire microampi alle mani a forza di scrivere il nome non esiste il concetto di alias in termini di classi la classe è quella e basta quindi non c'è un modo diretto di creare un alias ci sono magari dei trucchetti di programmazione però l'idea dell'alias non esiste domanda creando chiamando il costruttore bisogna specificare il package in questo caso purtroppo sì per cui se voglio andare a creare questa classe se scrivo uguale new car aperta chiusa tonda questo mi dà un errore mi dice attenzione tu stai creando un oggetto car che sta dentro il package base invece xxx è un riferimento a un oggetto che ha come tipo car che però sta nell'altro package e quindi qui dovrei andare a mettere questa scrittura estremamente compatta domanda noi quindi abbiamo dovuto importare delle classi per poterle inserire nella classe corrente sì tutte le volte che utilizzo una classe che sta in un altro package devo importarla esiste in realtà un'eccezione implicitamente c'è un import java.lang punto asterisco ok il package java.lang contiene le classi base essenziali per qualunque programma java string tanto per farvi un esempio che abbiamo visto in tanti esempi prima quindi la classe string si trova in quel package ed è automaticamente importata dal compilatore quindi questa scrittura normalmente noi non la facciamo perché è fatta già automaticamente dal compilatore per semplificarci la vita tra l'altro qui vedete anche un'altra notazione che è quella di utilizzare un asterisco esattamente che come viene detto in in chat allora tolgo questo che è sostanzialmente implicito quelle due righe che noi vediamo in cima sono sostanzialmente equivalenti a mettere un import base punto asterisco in generale questo non è raccomandato perché perché sostanzialmente vuol dire caro compilatore quando stai leggendo questa classe vai a prenderti tutte le classi che stanno in quel package se sono due come in questo caso non è un grosso problema però se sono una cinquantina o di più il tempo di compilazione tendenzialmente cresce per cui in generale questo tipo di input punto asterisco è un qualcosa che funziona però vedete c'è un warning beh qui mi dice che non è mai usato ma perché in realtà avevo quelli di prima tendenzialmente questo è un qualcosa che si raccomanda di non utilizzare molto spesso quando uso questo sostanzialmente l'asterisco si applica esclusivamente alle classi quindi non vuol dire anche i sottopackage perché come vi dicevo i sottopackage il concetto di sottopackage in java non esiste quindi quello importa esclusivamente tutte le classi che stanno in questo package ok se non ci sono altre domande allora quello che faccio è andare a salvare in allora sul subversion team commit missione 16 parte 1 allora a questo punto vi sostanzialmente vi ho salvato il contenuto di questo progetto sul repository subversion che potete trovare adesso vi faccio vi apro la pagina web del corso progetti allora questa è la pagina del corso come vedete qua sotto c'è scritto che tutti gli esempi svolti si trovano su questo repository subversion allora questo repository subversion io copio questa etichetta voi potete anche andarlo a vedere direttamente qui in realtà allora primo progetto non capisco perché non lo trovo allora ci torno dopo altrimenti perdiamo troppo tempo torno alle domande che sono in chat in pio 2020 intendi questo package allora la domanda non la capisco scrivemela poi separatamente più avanti perché è difficile capirlo in chat altra domanda se importo una classe nel momento in cui voglio creare un oggetto di quella classe devo ripetere la forma estesa no qui sotto io ve l'ho fatto per l'altra classe vedete che qui sotto io ho fatto new car questo vale per l'altra car che sta in un package diverso quindi una volta che ho fatto l'import così con l'asterisco oppure individuale il nome car è il nome di una classe che io posso utilizzare tranquillamente dentro tutto il mio codice infatti uso car senza particolari problemi allora la domanda sui due package allora ripeto non c'è nessuna relazione tra package che hanno nomi diversi anche se sono apparentemente uno sotto l'altro quindi quello che io scrivo in 20-20 esempi base non ha nessuna relazione con quello che sta nell'altro package che è esempi sotto allora scusate adesso torno ai clips eccoci qua e qui vado a crearvi una nuova classe che mi servirà per farvi vedere qualche piccolo esempio di come possiamo andare a utilizzare la classe string string allora questo è una nuova classe con un metodo main in cui vado a mettervi qualche esempio della classe string allora quali sono le caratteristiche fondamentali della classe string allora la classe string sostanzialmente è una classe che si dice immutabile ed è il modo standard in java di andare a rappresentare le string in c avevamo char asterisco piuttosto che l'array di caratteri qui non abbiamo quello possiamo ovviamente andare a definire un char array s ok è corretto perché char è un tipo valido in java però questo non viene interpretato come una stringa ok quello che posso fare è andare a definire string diciamo questo s1 s2 le stringhe possono essere inizializzate tranquillamente con dei letterali quindi hello e questo sostanzialmente mi permette di andare a creare in maniera agevole le stringhe volendo questa scrittura equivale all'incirca a scrivere char quadre underscore 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 s2 uguale a un array in cui mettiamo le lettere h e l l l o e poi andare a dire string underscore s2 uguale new string di underscore underscore s2 quindi questi due istruzioni quindi in cui parto da un array effettivo di carattere che vado a costruire una stringa equivalgono sostanzialmente a questa scrittura molto più compatta cosa possiamo fare con le stringhe beh l'abbiamo visto velocemente qualche esempio abbiamo la possibilità di utilizzare quello che è l'operatore più quindi string s3 uguale a s2 più un'altra stringa e questo mi permette di fare delle operazioni molto veloci senza dover andare a allocare memoria eccetera attenzione che cosa fa questa scrittura sostanzialmente mi crea una nuova stringa che è data dalla concatenazione di s2 che contiene LO e questa nuova stringa sugli array ci torniamo poi più avanti ok perché sono un po' più complicati questo è un modo semplice di inizializzare un array l'altra domanda che vedo è quando diciamo che gli array sono immutabili significa che se vogliamo scrivere s2 in realtà stiamo occupando nuovi spazi di memoria sì sostanzialmente se io faccio questa operazione qua abbiamo detto crea una nuova stringa se io vado a scrivere s2 più uguale a questo ottengo sostanzialmente che s2 e s3 hanno lo stesso contenuto l'oggetto s2 che io avevo creato qua in realtà nel frattempo è perso quindi quando io faccio questa operazione di concatenazione creo un nuovo oggetto che è dato dalla concatenazione del valore originale di s2 più quest'altra stringa li metto assieme e memorizzo il riferimento dentro la variabile s2 l'oggetto a cui s2 puntava prima questo non è più raggiungibile altra domanda posso sommare delle stringhe con degli aree di caratteri no nel senso che se io faccio s2 o s1 no scusate s2 più underscore underscore s2 quest'operazione mi viene data con un errore nel senso che non posso convertire un char array a string perché perché normalmente l'operazione di somma è pensata per essere fatta tra due stringhe però se avete visto la lezione io posso definire una variabile int uguale a 42 e poi andare a dire che s2 uguale a s2 più i risultato qui prendo i e lo converto automaticamente in stringa una volta che ho questa stringa la concateno con quella che stava in s2 e l'oggetto risultante che è un nuovo oggetto verrà memorizzato o meglio il suo riferimento verrà memorizzato in s2 quindi a questo punto s2 di partenza è di nuovo perso quindi questa cosa qua sostanzialmente equivale a dire s2 uguale a s2 più new string di no scusatemi integer punto to string di questo sostanzialmente prende i lo converte in stringa lo concatena con s2 e memorizza il risultato in s2 quindi di nuovo perdo riferimento all'oggetto s2 che avevo appena creato qua sopra domanda come faccio a usare un main piuttosto che l'altro beh normalmente dico a eclipse o comunque l'ambiente in cui lavoro di eseguire una certa classe e quindi sostanzialmente eclipse o l'ambiente la virtual machine eseguono il metodo domain che sta in quella classe quindi se volete essere sicuri di eseguire questo il metodo domain che sta in esempi punto string quello che potete fare è clic destro e poi run as java application e quindi il risultato è salva quello che vediamo qua cioè nulla perché questo metodo qua per il momento non stampa nulla domanda la stringa punta al primo elemento in un vettore di carattere come in C no la stringa è un oggetto che ha una sua rappresentazione interna ma non esiste il concetto di primo carattere o puntatore al primo carattere come in C per cui non ho la possibilità di fare S++ per andare per partire al secondo carattere quindi è una rappresentazione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo in C sui main sì io posso far partire tutti i main che voglio quando voglio normalmente il pulsantino verde che trovate qua su in alto riesegue l'ultimo main che avete chiamato in alternativa col pulsantino di fianco questo qui nero avete l'elenco di tutte le esecuzioni che avete fatto e quindi potete andare a scegliere di rieseguire uno dei main sui main rispondo brevemente poi chiudiamo il discorso perché è completamente fuori dall'argomento della lezione io posso avere quanti main voglio normalmente ha senso averne uno posso averne più di uno se magari ho necessità di test oppure degli esempi come stiamo facendo ora non è possibile eseguire i main in cascata uno dietro all'altro perché quando do una classe alla virtual machine come vi avevo detto due o tre lezioni fa io do alla virtual machine il nome di una classe e la virtual machine esegue il main che sta in quella classe punto finito lì non è possibile fare cose diverse quello è lo standard Java se avete altre domande su main fatemele su Slack perché poi vi rispondo in momenti separati sono argomenti diversi da quelli della lezione di oggi quindi a questo punto io posso concatenare dicevamo una stringa con qualunque altra variabile la variabile viene automaticamente convertita in una stringa e poi concatenata se io faccio questa operazione ovviamente vado a perdermi il riferimento alla variabile iniziale per cui l'operatore più che poi si è utilizzato in maniera estesa è molto comodo perché permette di fare tante operazioni di concatenazione che in maniera complicata avrei potuto fare in C in C avrei dovuto utilizzare STRCAT le conversioni eccetera che sono estremamente complicate per cui è un po' complicato da utilizzare allora vi chiedo scusa un attimo facciamo cinque minuti di pausa e poi riprendiamo con la la lezione parlando della classe string e delle classi wrapper di cui ho accennato nell'ultima lezione di Grazie a tutti. 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 Allora, rieccomi, scusate l'interruzione. Allora, domanda. Facendo S2 uguale a S2 più I, si sovrascrive S2. S2, sì, esattamente. e quindi viene sovrascrive, quindi il valore vecchio, quindi il valore vecchio viene perso. Il fatto che, per l'interruzione. ci sia una sovra, c'è un'interruzione. e la sovra, c'è un'interruzione. ecco, ecco, ve lo recupero. molto costosa. quindi ogni interruzione. la sovra, c'è un'interruzione. quindi crea un'interruzione. e quindi i tempi di esecuzione. viene espanso ogni, non so il valore di default, viene espanso ogni, non so il valore di default, in cui effetti più, è un valore di valore du каб užile, quindi l'interruzione. Ok Non vi racconto tante altre cose sulle stringhe C'è la lezione, ci sono le slide con un riepilogo degli aspetti più importanti Quindi se non l'avete già fatto vi invito a vederle Se le avete già viste, avete domande Direi che a questo punto potete farle Cerco di darvi dei chiarimenti Sulle stringhe in particolare Piuttosto che su quanto abbiamo visto anche prima Ok Allora Se dentro ciclo for mettessi S1 uguale a ogni ciclo Non creo un altro oggetto ma farei puntare S1 In realtà non è l'uguale ma è il più che è un problema Quindi ogni volta che faccio una concatenazione Il risultato è creare una nuova stringa Quindi nel momento in cui creo, faccio una concatenazione Implicitamente viene creata una nuova stringa Quindi non è tanto l'assegnazione usare le variabili Ma andare a creare la stringa Per cui essendo immutabili Le stringhe ogni volta che faccio un'operazione Che le modifica di fatto me ne creano una nuova Ok Allora Io resto ancora a disposizione 10-15 minuti Per ulteriori domande Le prossime lezioni saranno sui due argomenti Che seguono in quell'insieme di slide Che avete a disposizione Quindi gli array E quindi capiremo alcune cose Che oggi abbiamo dato un po' per scontate E la parola chiave estetica Quindi come funzionano Gli attributi e i metodi Che non sono specifici per gli oggetti Ma sono più generali per la classe Quindi direi che Possiamo considerare la lezione chiusa Resto a disposizione Ancora mi dicevo Ancora un po' di tempo Per varie domande Allora la domanda Che viene fatta è Quindi un uguale Non crea un nuovo oggetto Ma punta soltanto all'oggetto eguagliato Esattamente Quindi Torno al codice Java Così ve lo posso scrivere Più facilmente Ok Qui torniamo a Eclipse Quindi quando faccio Ad esempio S2 più uguale a i In realtà Sto facendo esattamente La stessa operazione Che scritta prima Quindi Equivale a Quindi queste tre scritture Sono sostanzialmente Equivalenti Quindi Quando faccio S2 uguale Sostanzialmente Prendo il risultato Di questa espressione Che è un riferimento Al nuovo oggetto creato E lo copio dentro S2 La creazione Del nuovo oggetto Viene data Nel momento In cui applico L'operatore più L'acquisizione Da tastiera Allora Purtroppo gli stream Che sono gli strumenti Utilizzati per leggere E scrivere File E anche dai dispositivi Sono un po' complicati Se volete acquisire Da tastiera Quello che vi Che vi posso suggerire È di andare a utilizzare Un'altra opzione Che è la seguente Quindi se io voglio andare a leggere Allora Da tastiera Io leggo dei caratteri Quindi normalmente Leggo delle string Per cui Posso andare a dire String input Uguale a Uso una classe Che si chiama J Option Pain Punto Show input Dialogue E qui vado a mettere Un messaggio Ad esempio Inserisci Il tuo Nome Allora A questo punto Vi condivido Direttamente Schermo Ok Quest'operazione Che cosa fa Allora J option pain È una classe Che è definita In una libreria Allora Vedete che qui Io non ho avuto Nessun problema Perché Eclipse Automaticamente Mi ha messo L'import In alto Che cosa fa Mi mostra Una input Dialogue In cui Mette Questo messaggio E poi Restituisce Il risultato Di quello Che scrivo Direttamente Dentro La variabile Input Che Giusto Per verifica Posso Andiamo Andare A Stampare In questo modo Println Input Quindi Se io Eseguo Questo programma Ecco Vedete Che mi compare Questa Finestrella Di input In cui Vado a mettere Il nome E il risultato Viene messo Dentro la stringa E quindi Ce l'ho a disposizione Qua Questo è il modo Che vi consiglio Più semplice Se volete fare Dell'input Da tastiera Ok Perché Il modo Direttamente Da console È un po' Complicato Quindi quando Parleremo Di input Output Poi ci Lo vedremo Con calma Allora L'altra domanda È Quando andiamo A1 Punto Paint Yellow In A1 Non c'è Yellow No In A1 C'è un riferimento A un oggetto Di tipo car A1 Punta A Un'auto Quindi Non so se l'esempio Era Nel programma Quando faccio C.paint Nero C Punta All'oggetto Car Nero In realtà Punta A un oggetto Di tipo string Che viene creato Automaticamente Dal compilatore Quindi Ogni volta Che utilizzo Un letterale Tra virgolette Automaticamente Il compilatore Qui crea Un oggetto Stringa Che me lo Lascia Da utilizzare System.in In realtà È un po' Complicato Da utilizzare Perché permette Di leggere Un carattere Per volta Ma Ripeto Utilizzate Questa J-Option-Paint Show-Input-Dialog Che è decisamente Più semplice Vi legge Direttamente La stringa Perché System.in Per leggere Una riga Di codici Vi richiede Già Di scrivere Una serie Un po' Più lunga Di istruzioni Allora Domanda Dato due package Dato due package Diversi Contengono Classi Con lo stesso Nome Allora In realtà Nell'esempio Che noi abbiamo Visto Qui Questi due package Incidentalmente Sono sotto cartelle Ma in realtà Sono due package Che Java Considera Completamente Separati Quindi se questo Se questo si chiamasse Et Punto Un altro Corso Sarebbe Completamente Scollegato Comunque E quindi Non cambia Nulla In realtà Io posso Fare l'import Soltanto Di una classe Per volta Non posso andare A Utilizzare Un meccanismo Analogo All'overload Perché quando Creo Una variabile Dichiaro Semplicemente La variabile Quindi Tornando al mio Esempio Programma Qui Lo riallargo Non vedete Più nulla Perché Sì Doveste Vederlo Quando utilizzo Car Car Deve Significare Esattamente Un'unica Classe Quindi Se io Faccio L'import I più Classi Non lo Posso Fare Perché I due Nomi Sono In conflitto E come Dichiarare Due Variabili Con lo stesso Nome E quindi Questo È assolutamente Vietato In generale Ogni volta Che io Vado a Sovrascrivere Una variabile Il Riferimento Viene Sovrascritto Quindi L'oggetto Precedentemente Puntato Da Quella Variabile Tipo Riferimento È Perso A meno Che Esista Un altro Riferimento Da qualche Altra Parte Che Continua A puntare A quell'oggetto Per cui Periodicamente Sovrascrivendo Le stringhe Le stringhe Ad esempio Torno All'esempio Delle stringhe Che stavamo Vedendo Prima Vedete Qua Inizio Con S2 Qua Poi La concateno E quindi Mi perdo Il riferimento La concateno Di nuovo E mi perdo Qui Sono una serie Di concatenazioni Che sostanzialmente Perdono Riferimento All'oggetto Precedente Quindi sostanzialmente Arrivo a questo Punto In cui Ho Un certo Numero Di oggetti Stringa Che sono Persi E raggiungibili Quindi Ragionevolmente Il garbage collector A quel punto Potrebbe intervenire Liberare La memoria Di quelle stringhe E renderla Disponibile Per altro Allora Nel costruttore Di car E vado a prendervi La classe Per copiare L'oggetto Le stringhe Sarebbero Da inizializzare Con new string Perché stringa Perché così Sono solo Un riferimento Allora Il costruttore Immagino Tu faccia Riferimento A questo Di copia Il costruttore Che crea Una copia In questo caso Copia Sostanzialmente Il riferimento Quindi Punta Fa in modo Che due oggetti Car Che hanno Lo stesso colore La stessa marca Puntino sostanzialmente Allo stesso oggetto Stringa Stringa con il nome Della marca E lo stesso oggetto Stringa con il nome Del colore Il fatto che siano Immutabili È pensato proprio Per andare a Permettere questo Meccanismo di copia Visto che l'oggetto È immutabile Perché andare Creando una nuova copia Utilizzo sempre La stessa Tanto Non verrà toccato Se in un'auto Cambio il colore In realtà In realtà Non cambio Il contenuto Di quell'oggetto Stringa Ma cambio Il riferimento Lo faccio puntare A un'altra stringa Quindi L'idea Dell'immutabilità Mi permette Di fare Tranquillamente Questa copia Diretta Dei riferimenti Senza preoccuparmi Di nulla Perché tanto Quegli oggetti lì O meglio Il contenuto Stringa Di quegli oggetti Non varierà Mai Mentre invece In C Quando io punto A una stringa Di solito Me ne faccio Una copia Perché non so Se quella stringa Verrà modificata Per cui Lo svantaggio Java È che io Continuo a creare Nuovi oggetti Ogni volta che li modifico Perché in realtà Non li modifico Ma creo Una versione modificata Il vantaggio È che posso Tranquillamente Condividere Tanti riferimenti Alla stessa stringa Perché tanto Quella stringa Una volta definita Non cambia più E se voglio cambiarlo In uno dei tanti riferimenti Sostanzialmente Di fatto Cosa faccio? Punterò A una stringa diversa Quando viene creata La stringa La virtual machine Sa dove sono messe Queste stringhe Ma Come vi dicevo Non esiste Aritmetica dei puntatori In Java Quindi Una volta che Non c'è più Nessun riferimento A un oggetto Che ho perso Quell'oggetto è perso Non esiste alcun modo In Java Di recuperarlo Quindi O da qualche parte Mi sono salvato Un riferimento Oppure è perso E che vuol dire Che potrà essere La sua memoria Potrà essere recuperata Quindi l'idea di perdere Un oggetto Non è così negativo Perché prima o poi La sua memoria Verrà recuperata È riciclata Quindi se volete È un meccanismo Di economia circolare In cui Appena l'oggetto Non è più utilizzato Viene riutilizzata La sua memoria Sulle classi Vrapper In realtà Se avete Le domande specifiche Bene Altrimenti Guardate la lezione Perché non c'è Tanto da dire Cioè sono Ci sono degli esempi Molto Molto semplici Ok Poi In qualche esempio Le utilizzeremo Ma non più di tanto Ok Mentre aspetto Eventualmente Altre domande Vi ricordo Che se preferite Fare una domanda Complessa A voce Potete alzare la mano Quindi io vi do La parola Potete farla Vi pubblicherò In giornato Al massimo domani Un paio di nuove lezioni Per In preparazione Per la Per la lezione Indiretta Di Di mercoledì Il link Alla documentazione Non funziona più Allora Sulle slide Non mi ricordo cosa c'è Però fate riferimento A quello che Trovate sulla pagina Del corso Allora Fatemi fare La condivisione Della pagina Del corso Non trovo più Allora Sulla pagina del corso Trovate Javadoc API Questa Funziona Ed è quella Che è In copia interna Al politecnico Quindi Potete utilizzare Dello stesso Penso che avrete a disposizione Durante L'esame Quello esterno Probabilmente Oracle Ha fatto qualche Pasticcio Quindi effettivamente È possibile Che non sia più Attivo Ok Altre domande A breve Se no vi ricordo Che comunque Potete fare domande Su Slack Qui cerco Di rispondere Quindi ricordo Che le domande Specifiche Sul linguaggio Java Mettetele sul canale Java In modo che Siano raggruppate Poi sia più facile Andare a Cercare le domande Soprattutto se Avete dei dubbi Nel canale Software Engineering Serve Su Slack Serve per L'argomento Software Engineering Che Per il momento Non abbiamo ancora iniziato Quindi quando lo inizieremo Poi ci saranno Le domande Le potrete fare Su quel canale Ok Il codice che ho scritto In questa lezione Verrà caricato Adesso in realtà L'ho caricato Ma Probabilmente l'ho caricato Sul repository Sbagliato Quindi ve lo metto A disposizione Sul repository Vi metto poi Anche il link E Mercoledì Vediamo come potete Utilizzare Eclipse Per andare a fare Il checkout Dal repository In maniera Tutto il progetto Direttamente Ok Allora Direi che Per oggi Possiamo chiudere Ops Altra domanda lunga C'è una domanda Offline Direi che Magari rispondo Poi Sì Magari scrivi Se hai domande Extra corso Magari scrivetemi Un'email Così vi rispondo Personalmente Ok In assenza di altre domande Direi che Chiudiamo La lezione di oggi Come al solito Verrà pubblicata Anche questa E Noi A questo punto Ci rivediamo Direttamente Mercoledì Nel frattempo Vi metterò a disposizione Un paio di nuove lezioni Su Due nuovi argomenti In modo da andare avanti Sulle conoscenze base Di Java Arrivederci E buona giornata a tutti Grazie 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 a tutti.